Dal 4 al 10 ottobre in contemporanea con la settimana mondiale dello spazio, Camerino ospiterà la terza edizione di Galassica, il festival dell'astronomia itinerante tutto marchigiano, ideato dall'associazione Nemesis Planetarium e realizzato quest'anno in collaborazione con l'Università di Camerino. Tema di questa edizione che si terrà sia in presenza che online sarà spazio all'umanità con attività, laboratori, conferenze, incontri per il pubblico di tutte le età. Unicam oltre agli spazi metterà a disposizione anche le competenze dei ricercatori e del personale del Museo delle Scienze. Gli eventi sono 35 con circa 60-65 moderatori. Abbiamo approfittato dell'emergenza Covid per introdurre i moderatori che vengono da fuori Italia. Quindi avremo anche in lingua alcuni personaggi particolari come Anna Fisher che è una delle astronate più famose al mondo che ci contatta direttamente da Houston per fare l'intervento online. Quindi abbiamo questi vantaggi. Abbiamo per esempio Paolo Bellutta che è uno dei tre uomini al mondo che pilotano il rover Curiosity. Anche lui si collega da Houston, anche lui farà l'intervento molto simpatico peraltro su come funziona il lavoro di chi fa questo tipo di mestiere. E poi abbiamo degli eventi invece in sito, quindi in presenza, al cortile San Domenico per i ragazzi, nel pomeriggio, nel primo pomeriggio. E invece nel tardo pomeriggio gli approfondimenti sia in presenza che a distanza. E poi abbiamo le serate. Le serate le facciamo sia di approfondimento che invece qui all'arena. Abbiamo i ragazzi di Chi ha paura del buglio, Lercio, Luca Perri, tutti ragazzi e ragazze che si occupano della divulgazione scientifica. E quindi in qualche modo hanno anche un seguito e portano un certo tipo di pubblico.